Dopo una breve tregua di qualche giorno l'instabilità torna ad aumentare anche sul centro nord Italia e in particolare tra Toscana e Lazio. Tutto ciò è causato da un fronte polare più basso della media. In Toscana giovedì 24 ottobre nuvolosità variabile con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio locale temporale, venti moderati di scirocco deboli orientali nelle zone interne, mari poco mossi e localmente mossi a sud dell'Elba, temperature minime stazionari di circa 5-7 gradi superiori alle medie del periodo, massime in aumento. Sui territori provinciali di Lucca e Massa Carrara molto nuvoloso coperto con deboli piogge alternate schiarite, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 14, massima 22 gradi, a Castelnuovo di Garfagnana e Valle del Serchio minima 12, massima 20, a Viareggio e sul litorale minima 15, massima 22, a Massa Carrara e Lunigiana minima 14, massima 22 gradi. Venerdì molto nuvoloso coperto con precipitazioni sparse che potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale. Grazie a tutti!